benvenuti benvenuti cari amici siamo inviti in questo nuovo video naturalmente come sempre ricordo di distruggi il botone like iscrivi al canale ed iscrivi anche nelle diagram oggi andiamo parlando di parseus token un token della DeFi quindi secondo me progetto molto interessante che mi è stato letteralmente segnalato da uno di voi per cui ho deciso di aprire una nuova rubrica che chiameremo protocollo sotto i riflettori penso che almeno una volta a settimana andrò a gestione zero che è un progetto vostro perché molto spesso capita che mi scrivete in DM mi scrivete su telegram e per cui ho deciso di rispondere a queste domande attraverso dei video dedicati andiamo a vedere parseus token ovviamente non sono le conseguenze di trading vi ricordo token che non è ancora listato ok su alcune exchange ma sarà ok probabilmente più volte scusate più là listato su qualche exchange secondo me ok inizieranno da uniswap o comunque da qualche DEX ok in generale quindi questo è un po' il prambulo che mi sembra doveroso ok comunicarvi andiamo a vedere quello che è il sito perché il sito sicuramente possiamo vederlo e lo trovate sotto in descrizione trovate il sito telegram insomma tutte le info che vi servono quindi anche così potete analizzarlo potete anche vederlo insieme ai vostri amici perché spero che anche voi abbiate gli amici che condividono anche il mondo del cripto allora ve lo dico subito parseus è un progetto che riguarda DeFi ok quindi finanza decentralizzata e se questo non ci piove loro vogliono dar vita a uno DAO quindi a un progetto che si profila democratico infatti se vi considerate anche il nome Perseo si rifà l'antica Grecia penso di voi la conoscete la polis greca la politica ideale ecco qua vogliono fare un qualcosa di simile solamente ai giorni nostri quindi una politica ideale all'interno della DeFi e come si attua la politica all'interno della DeFi in maniera democratica attraverso le DAO che praticamente riassumendole sono delle assemblee decentralizzate dove si vota in base al numero di token che si ha e si prendono decisioni ad esempio si possono prendere decisioni sul marketing tutti possono votare quanto dei token destiniamo al marketing destiniamo al 10% e tutti votano quindi questa è la cosa secondo me più democratica ok di un progetto e ogni progetto che dovrebbe avere questa funzionalità quindi il potere al popolo questo è l'obiettivo ok quindi in questo caso popolo inteso coloro che aderiscono al progetto ovviamente poi qual sarà il loro obiettivo di andare a sviluppare quindi inizialmente si inizia con una modalità tra virgolette democratica e dopo ovviamente si va incontro a una roadmap che come potete vedere è qui definita maggio 2023 quindi esattamente un mese fa è stato concepito il progetto di Perseo andremo a vedere poi da parte di chi ora a luglio daranno vita all'audit e al lancio ufficiale di Perseo proprio probabilmente anche in futuro potremo andare a vedere assieme ok quello che sarà il futuro di questo token che vi ricordo ancora non è listato successivamente a partire da giugno ovviamente io ho saltato c'è stata la fase della concezione e la progettazione che è fondamentale fino ad arrivare poi ad agosto ora agosto ci sarà proprio l'inizio da DAO quindi di questo sviluppo di queste votazioni democratiche quindi luglio lancio il token ovviamente più token voi acquisite più poi avrete potere per attuare le decisioni questo è il riassunto a settembre 2023 ci sarà la formazione strategica per poi andare tra virgolette a pushare attraverso partnership e ovviamente investimenti con altri progetti ok perché l'unico modo per crescere un progetto primo non ci deve essere FAD se il progetto muore e qui comunque siamo veramente nella fase iniziale addirittura il token non è ancora uscito quindi mi raccomando qua il rischio di rendimento può essere molto alto il rendimento però anche il rischio alto perché è un po' come il bambino se voi non lo curate che nella fase iniziale muore e qui si deve essere identica cosa quindi vedremo cosa succederà a luglio e probabilmente se voi volete ulteriori giornalmente su questo token scrivetemi nei DM anche su Instagram anche ovunque perché io raccolgo ok le vostre richieste e poi andrò a fare un video ok almeno una settimana ok questo è l'intento su questi token poi la tokenomics andiamo a vedere come si prefigura perché il 30% andrà per la community e lo sviluppo dell'ecosistema 25% per le decisioni governance quindi all'interno della DAO 20% all'interno della liquidity pool 10% al team di divisor che ovviamente ci devono guadagnare e un 4.43% all'interno della liquidity provision questo in sostanza è il progetto quindi riassumendo qui ci sono trovate anche delle FAQ ci sono trovate delle domande alle quali diciamo le domande più gettonate a cui loro rispondono e l'obiettivo iniziale di questo progetto è quello intanto di dar vita a una DAO democratica e riassumendo probabilmente magari andranno a sviluppare delle piattaforme di prestiti essendo le FAQ però per ora non è ancora stato specificato quindi io mi attendo unicamente a quello che è il sito che è in questo momento tra l'altro il progetto è stato sviluppato anche da un italiano per questo ho deciso tra virgolette di recensirlo Federico Salmoraghi che è praticamente il CEO di questo progetto andrò poi a vedere anche quello che è il suo Twitter così mi insegno un po' anche come si va a vedere a studiare un progetto andrò a vedere il Twitter andrò a vedere anche il suo LinkedIn però vorrei vedere anche quello che è il whitepaper perché il punto focale sarà proprio questa DAO che per chi non sapesse è praticamente una Decentralized Autonomous Organization una... scusate in italiano un'organizzazione autonoma decentralizzata ok? quindi ovviamente l'elocazione di capitali su determinati progetti comporta numerosi rischi io ve lo ricordo però ovviamente chi entra in fase iniziale può fare anche grandi numeri quindi sta a voi decidere io ovviamente vado a recensire un qualcosa che mi avete chiesto a voi in questo momento poi andrò a vedere anche quello che è il Twitter in questo momento 13.500 follower ok? quindi non sono pochi per quanto riguarda per se è un fintech e se volete seguirle ok? trovate qui il loro Twitter e potete andare a vedere quello che stanno progettando in questo momento poi vorrei mostrarvi anche quella che è stata la carriera ok? del SEO che tra l'altro alloggia ok? in Romania ok? a Bucarest quindi ho fatto un'idea per l'appunto ora si è proprio buttato a coprofitto in questo progetto come potete vedere a partire d'aprile 2021 ha fondato per Seus Fintech quindi potete andare a vedere tutto anche insomma ovunque ok? e tra l'altro ha lavorato anche in Moldavia prima insomma ha una discreta come si dice una discreta esperienza ok? non mi viene il termine poi formazione Università Cattaneo ok? quindi insomma è uno che insomma l'università anche l'ho fatta non è che vi cambia la vita però questo era il progetto nel senso che ci mette la faccia ok? questo volevo dirvi infine se anche voi volete far parte ok? di Perseus qui trovate il gruppo Telegram vi lascio anche sotto la descrizione del gruppo Telegram e se vi è piaciuto questo video ti ricordo di sbagliare il like iscriviti al canale e noi ci vediamo presto hasta la vista ombre e Grazie a tutti